Daram, 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 daram. Allarme squalo, ci voleva la barca più grande. L'uomo è nella gabbia, la gabbia affonda nella salsa, lo squalo si aggira nella salsa, il nostro squalo. Oh dai, sputa, che ti ha preso? Non spicci che una parola da 20 minuti, si può sapere qual è il problema? Questa vita. Questa vita? Sì, questa vita di merda. Prendi le patatine, ti sentirei meglio. Sono sepolto in questo buco, non solo, prendo meno di un negro alla catena, lavoro anche il mio giorno di riposo. Quelle cazzo di saracinesche si sono bloccate, ho a che fare con i peggio balordi di questo pianeta, puzzo di lucido da scarpe, la mia ex ragazza è in catalessi dopo aver scopato con un cadavere e la mia attuale fidanzata si è ciucciata 36, cazzo. 37. Al momento la mia vita è un vero cesso e credirei cuocere nel mio proto. Grazie.